E signori avete letto bene dal titolo? Oggi a tutti i costi faremo una vittoria in ranked campione, non la faccio da secondo me almeno una settimana raga, se non una settimana e mezza E questa cosa non va per nulla bene perché ci fa scendere la nostra pro playerinagine, non so come chiamarla signori ma avete capito, voi avete compreso Mi fa perdere l'autostima in poche parole, ecco, quindi oggi obiettivo fare il devasto e la vittoria Mi dovrò salvare in ogni caso, non dovrò essere il classico pusciatore seriale che va a pusciare qualsiasi persona che si trovi davanti Anche se dovessero dirgli guarda i mongral davanti, io, io raga per come sono fatto io lo andrei a pusciare Cioè prima cosa che farei tra l'altro, neanche mi curerei e andrei subito a pusciarlo Quindi oggi si punta la vittoria cercando di giocare nella maniera più seria possibile Quindi farmiamo, lootiamo, appena abbiamo un gran bollut si inizia ad andare a pusciare giocandocela al meglio delle nostre qualità Dobbiamo riuscire a dare veramente veramente il massimo Mi raccomando, per dare veramente il massimo però, a voi da casa, codice ferro nel negozio oggetti per supportarmi Veramente, veramente super al massimo Ricordatevi che ogni 14 giorni di scala e quindi controllate sempre di avercelo inserito per supportarmi Potete metterlo maiuscolo, minuscolo, come cavolo volete L'importante è inserirlo per supportarmi Oltre a questo un bel like e un'iscrizione Ora, ora, ora come ora Io non ho visto, in teoria ne è andato uno in realtà qua a fattoria Che non è andato però alla casa, molto strano Quindi sarà, secondo me è andato là in fondo raga Nella fattoria alla rossa Quindi giochiamocela per bene e vediamo di trovare un pompa Perché è cosa impossibile, non è possibile trovare un pompa in casa oggi Cioè se uno mi dovesse pusciare adesso io sono morto Ma, 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 ok Ah, hanno messo il pompa Oddio, oddio hanno messo il pompa carica Oddio raga Oh mio Dio davvero Allora, piano, piano, piano e calma Piano, piano e calma che io direi Vediamo di Oddio, sto digerendo qualsiasi cosa Aiuto, ho mangiato mezz'ora fa raga Quindi mi sono messo subito all'opera Subito, subito all'opera D'altro ragazzi, oggi è domenica e è passato un giorno dal GameSuite Cosa ne pensate? Chi è che c'è stato? Scrivetemi un po' di cose carine ragazzi Se vi ha fatto piacere incontrarci Se, 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 non lo so Qualsiasi cosa voi vogliate dirci Scrivetemi una nei commenti Mi farà sempre super super piacere Anzi, vi lascio pure un bel cuoricino In ogni caso, allora Io non sono messo male Ma non mi sento neanche messo bene Perché vorrei uno Spass Giustamente voi direte Oh, chi è che non vorrebbe uno Spass? Così a inizio game Vabbè, ci accontenteremo anche non dello Spass L'unica cosa è che vorrei magari altri scudini Così che magari mi potrei curare Andando un attimo avanti, no? Pushando le persone No? Non trovi che darmi magari altri scudini Sarebbe molto interessante come cosa Comunque, dove sta il player? Io ne ho sentito uno lendare qua Quindi potrebbe essere qua vicino raga L'importante è che non sia Qua nel grano che ci aspetta e fa vinta di nulla Allora, qua però non è loot, eh Qua non è loot, quindi Oddio Allora, allora, allora Bisogna capire se effettivamente No raga, è no loot È no loot Cioè, sta cosa significa solamente una cosa O che non è lendato Oppure che ha visto ferro E ha detto Vabbè raga, scappiamo Perché probabilmente andremo a morirci Scudini lo lascio direttura lì raga Non mi interessa Mini scudi super buoni Raga, luto qua e vado a pushare Luto qua e vado a pushare Perché è chiaro che Passi Passi, passi, passi Allora non mi stavo sbagliando signori Passi, passi, passi Molto, molto limpidi Quindi qua ci sta sicuramente qualcuno Mostrati a me La domanda è dov'è? Fermi tutti, eh I passi li abbiamo visti tutti Ok Eh, là in fondo Fermi che Mi lancio tipo Fermi Oddio raga Se l'avessimo fatto ballare S'abbia stato incredibile Oddio Se l'avessimo rifatto ballare S'abbia stato incredibile ancora Questo vuole tirermi una Zaiperata a tutti i costi raga Fermi che Fermi che Il bro non sa che io Ho ancora una boogie bomb E il bro non deve saperlo Fermi Allora Devo provare con la boogie bomb raga Se lui dovesse aprire un attimo Gli provo a tirare dentro Una boogie bomb che sarebbe Tipo la svolta Fermi No way raga Questo è rapido, eh No, no, no raga Questo Questo sa quello che fa Questo Sa quello che fa Ah, eh sì Lo sa anche molto bene raga Questo sa giocare Questo Sa giocare Sta arrivando pure una macchina Fermi che Il box sopra Allora È arrivato subito A pusharci l'altro Cattivissimo Ok, sapete cosa vi dico Me ne scappa lo scudone di prima raga Me ne devo super scappare Lo scudone di prima Che avevamo lasciato qua E non dimentico io Ricordatevi Ah, si sono già chillati questi No raga, impossibile Non ci credo che si sono già chillati Oh, ce n'è uno che è straforte Oh, non mi spiego Come cavolo si siano già chillati Sì raga Ne è morto uno per forza qua Io sto pure finendo i mazze Allora, piano, eh Piano che Non è la miglior situa Questo è arrivato Si è chillato il tipo E se ne scappa pure No raga, questo secondo me è fortissimo Questo secondo me è fortissimo Allora, ricordiamoci che oggi dobbiamo vincere Quindi Va bene pushare Va bene pushare Va bene tutto Ma dobbiamo vincere Io direi Rifarmiamo un pochettino Che abbiamo letteralmente usato Ah, ma il bro sta Ah, ma il bro invece Il bro è quello che stava fightando me È quello fortissimo, eh Il bro fortissimo è quello che in realtà Stava fightando me Io devo farmare però raga Fermi che Gli devo tirare un altro colpetto Così almeno Lo rispottiamo per un pochetto Ok, vai Spara, spara, spara bro Spara che io farmo intanto Fermi No Ok Oh mio dio Ma che colpo gli abbiamo tirato Ragazzi siamo fortissimi No bro Tu hai sbagliato tutto Te lo dico io Hai sbagliato proprio nel pushar me Capito Guardalo, guardalo che mi provo a prefairare Fermi Oh mio dio raga Prefaira sto cavolo Prefaira Prefaira sto cavolo Prefaira Mamma mia signori che bell'hit Mamma mia che bell'hit E allora Piano C'è un cecchino C'è un cecchino C'è un cecchino che mi piace A me il cecchino Mi piace tanto Fermi che Vediamo di sputtare questo bro E di Prenderci Questo No way raga Ok Un 60 gli abbiamo fatto intanto Ah ma lui c'ha Che splash sono Ma le splash quelle illegali Quelle straforti della velocità No raga Io non ho neanche Tanti mazze Allora piano che Questo io tiriamo una bella Neiperata Se lo dovessimo vedere Però ci No albero ci fa età di pompa Raga ci mangia questo Ve lo dico io No no raga fermi Oh mio dio Sono fortissimo raga Io lo posso itare Lui non mi può itare Signori siamo fortissimi Oh mio dio Oh mio dio Cannone bevute di juice Cos'è sta roba Perché io non l'ho mai vista Perché sta arma Non sapevo esistesse Oh mio dio Ma è fortissima Raga è incredibile Non è forte quanto me Perché l'ho chillato Questo e quindi Capite che Non puoi essere forte quanto me Ma raga assurdo Questa teoricamente Cioè mi fullo con questa Me ne sto nel chill raga Due chilozze per noi Trenta persone rimaste Stiamo letteralmente Chilando tutta la lobby Meglio di così raga Chi ce lo fa fare di pushare La domanda è Cos'è che tengo È meglio Ah raga Sei mini Cecchino Questo Vi giuro che non ne ho idea Sei mini raga Pure sono buoni Però c'è capito che io Potrei in realtà far così raga Potrei tranquillamente far così raga E sono messo bene Va bene raga come cosa Dai dai ci sta Questo mi sembra il loot Migliore che si possa avere Comunque raga posso dirvi una cosa Pompa del nonno Sempre una spanna Sopra tutti gli altri Pompa Questi ragazzini qua Che stanno usando il nuovo pompa Poverini Ci stanno rimanendo male Secondo me Perché letteralmente Si beccano una botta Da 100 120 in testa Perché Ultimamente sto beccando solo in testa E non parlano più Cioè A me dispiace quasi per loro Veramente Ora l'unico che non vorrei incontrare È quello con la minigun O quello con la tomigan Fino a fine game Finché non siamo in due Letteralmente Io non voglio incontrarli loro Quindi farmiamo per bene Se ce la fightare Fightiamo Senza paura di nessuno Però Ce li amocela anche raga Cioè È bello così Cioè raga Se dovessimo andare a vincerla In campione Io voglio 10.000 like Sotto questo video Iniziate a droppare un like Mi raccomando Il codice ferro Nel negozio getti raga Perché Questi ce li siamo divorati Ma è roba che non hanno capito nulla Tra l'altro un mio tio Raga Ha spawnato giù i sword Ma che figata incredibile è No raga Ma che Che roba fighissima Guardalo la gigante raga Oh mio dio Che hit Mamma mia raga Quanto è fatto bene poi Bello 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 bro Bello 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 Mi hai fatto pure sgamare delle persone Godo Fermi tutti Quelli là sono quelli con la minigun eh Quelli là sono quelli con la minigun Guarda che sta Si stanno curando Ma che è Ma sono contro le due No è impossibile Quella è una persona No quello è il bot Boh Non lo so raga Non lo so Non ci capisco nulla L'unica cosa che so È che quelli là Io non li voglio assolutamente Apitare perché Ci hanno sicuramente la Tommy E io con la Tommy Non ci voglio avere nulla a che fare Perché È l'unica cosa Che ci potrebbe killare in un secondo Capito Spamma un pochettino Bam Lui c'ha la Tommy mitica Ci mangia raga Ma non succederà questo All'altro Ho le dita freddissime raga Questa cosa non va bene Tra l'altro oggi ho un taglio La Justin Bieber Oggi mi sento Justin Bieber raga Allora Qua ci sta uno scudone Sapete cosa vi dico Lo nascondiamo là Ci tiriamo il funghetto Che ci fa andare comunque Full vita E ci prendiamo quel bel Nonno blu Che qualcuno ha lasciato qua Purtroppo O purtroppo 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 Non mi interessa in questo momento Direi che non è una cosa interessante Per vincere questa partita E noi ci interessa solo Ciò che ci fa vincere la partita Oh Cioè non è che sento Opto spari Non si può dire opto Vero? Non vuol dire nulla Opto Opto era un qualcosa raga Ve lo giuro Opto No 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 Non si dice opto Cavolata Ottimo Vabbè Allora Guardalo No 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 raga Mi sa che su quello con la Tommy E quello con la minigun Per me che quello adesso Gli tira una cecchinata in testa Oh mio dio raga Sì non ci credo Fatemi piangere Fatemi piangere per sempre No no raga Questo però No no Non devi prendergli la minigun bro Mincavolo No no bro Godo Fightatevi sì Fightatevi Guarda quella minigun là raga Oh mio dio raga Io voglio solo quella minigun Godo Godo Oddio Per una volta ce l'abbiamo noi raga Fermi Allora Fermi che Mi curo con questo Allora Fermi Ok vai spamma Ah No no raga No no raga E quello Con la Tommy che mi entra in tutto Utilizzarla Tra scarto Mi non ci capisco nulla Ma cos'è sto gioco Ma vi prego raga Ma non ci credo Guarda poi questo Godo 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 un corno Godo Godo Invece Godo 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 e basta Spero che questi qua muoiano tutti Tutti muoiano Adesso mi aspetto pure questo No dai scherzo Non lo sto a aspettare Però dammi 4% Ma avevo 3 kill avevo Ma mannaggia a te gioco Ma fammi salire un po' di più Dodicesimo con 3 kill Allora raga Io mi son detto Me ne vado in un land Abbastanza Affan Così che almeno Riesco a No guarda che questo si landa subito No dai dai mi col pompo Ok Non so quanto faccio però sto pompa raga Oddio Fermi Fermi No raga fermi Fermi dammi i mini Niente Medikit Ok buono 30 di shield almeno ce li abbiamo Ma raga ma quanta gente c'è Ma io pensavo di essere da solo Ma io mi son detto Vengo qua che sto da solo A quanto pare Tutti qua eh Ma cos'è sta cosa Ma spiegatemi sta cosa Dammi uno scudone Perché non mi dai scudoni Gioco allora Togli qua Metti qua Qua Prendi questo Mannaggia raga Che sito del cavolo Ah Questo mi vuol pusciare No no raga Forse non avete capito Che sito del cavolo sono Non voglio perdere il 4% Che ho fatto prima Con 3 kill E posizionamento dodicesimo Vi prego Non me lo merito Dove sta la cesta No raga ma Ma che situazione è Ma che situazione è Ma io Io son mortissimo Fermi che devo Tornarmi una via di fuga Questa deve essere Ah Ok Son morto vero Ah Full mitragliato Ho finito tutti i maz Va bene Ed shot con la eagle Così nel box Ci sta dopo tutto Se mi dovessi togliere Il 4% In questo momento In quale sono andato In un posto Letteralmente a ca Guarda questo Quanto era forte Meno 4% Cioè raga Io non ho parole Io non ho parole Io come faccio a vincere Ok Giuro che se ci dovessero essere persone Dove cavolo sono andato adesso Io veramente raga Sta partita La chiudo qua Ok Tra l'altro abbiamo trovato un caccia raga Il caccia potrebbe essere L'unica cosa Che ci potrebbe portare davvero La vittoria Non sto scherzando raga Con il caccia posso tirare Di quelle sniperate Che poverina la gente Se le sogna La gente se le sogna E lì capito che mi sta per mirare Bam Cacciata in testa E basta E basta Non c'è più Purtroppo Quindi Purtroppo un cavolo Sono avversari comunque oggi Comunque allora Piano Ascoltatemi attentamente Io direi Prendiamoci sta cesta Ah Ok Il god loot Così Grazie gioco Sei Sei un grande Ti voglio super bene Tra l'altro vabbè Ah non me li potevi dar prima i mini vero Non me li potevi dar prima i mini vero gioco Sei stato veramente un grande Cioè davvero complimenti Allora Mi direi vabbè Teniamoci magari questa per un attimo raga Così che almeno Non abbiamo problemi nel fullarci Poi ci andiamo a riprendere i mini al massimo Se dovessimo trovarne altri Pompaviola Caccia Raga abbiamo Abbiamo L'abbiamo svoltata Cioè Hashtag Casa di Tony Stark Teoricamente era proprio quella La casa di Tony Stark Tanta roba Veramente Ok Mi hanno provato a cichinare raga Non so dove Mi hanno provato a sniperare Fermi tutti Ci sta un player qua a qualche parte eh Vorrei capire dove ma Non lo capisco Allora Ah Ah Mi ha pure preso Fermi Ah T'ho preso pure io Uh 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 Fermi No ma raga È troppo pinagg Per me è quello Lui è troppo pinagg Non c'è neanche pure Dove andare a prendere rift Il bro forse non si è accorto Che siamo qua dentro Lo spero La domanda è Rift o non rift Dai prova a sniperarmi Io tanto mi rifullo Però piano piano eh Io posso anche attendere Se volete che me la gioco Bene raga Attendo Mi fullo piano piano Questo ce lo mangiamo Ve lo dico io Questo non è messo benissimo Secondo me eh Siamo messi molto molto meglio noi Anche se potrebbe essere messo Molto meglio di mazze Ok fermi Capiamo Ah No Ok piano Ha riftato un altro da là No 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 piano eh Che è Era quello Quello verde Raga in teoria era lui Fermi che Questo lo dobbiamo inseguire raga eh Questo dobbiamo inseguire Che secondo me siamo messi troppo meglio Però da qua a sinistra Arriverà il tipo quello scar Ok se dovessimo messare quello quello scar Siamo morti Partiamo da questo presupposto Eh Intanto ci si rifula un po' Il cannone dello shield Non so se sto facendo la cosa Più intelligente da fare raga eh Potrebbe essere una gran cavolata Quella che stiamo andando a fare Però fermi Il bro vuole fightarci comunque eh Il bro l'ha capito che ci vuole Eh si ci vuole fightare come Fermi Oh mio dio se avessi beccato così raga No way No way Allora In teoria siamo più veloci con sta roba Dovremmo essere Ah si è preso un altro rift Siamo morti Cioè non lo prendiamo più Non lo prendiamo più A meno che Gli tiriamo una bella laserata Signori in volo da qualche parte In qualche modo Ma è impossibile Questo ci è scappato raga Scappatissimo Tanto vabbè Una bella cacciata si è tirata E ha capito un attimo chi comanda Eh niente raga Ci è scappato Fermi No raga Ma stravisto e strasentito eh Ma stravisto e strasentito E questo Questo fight invece Non è un fight che avrei voluto fare Non ho tanta legna raga Non c'ho nulla di mazze Mannaggia A questo Allora fermi Fermi che io devo farmare Fermi allora Se ne sta nel cespuglio Secondo me eh In quale però dei cespugli Ce ne sono tanti Ok Raga me ne vado via eh Forse la cosa migliore qua È farsi gli affaracci suoi Cioè ognuno gli affaracci suoi Spero che se li faccia anche lui Che non mi venga da dietro i milaseri Cosa molto possibile in realtà Super possibile Infatti mettiamoci Qua dietro questo Questo roccione gigante Qua non c'è nessuno Il cespuglio Vero Buono Brutta situa Eh raga Ne abbiamo inseguito uno Che abbiamo danneggiato Questo non l'abbiamo L'abbiamo missato Col cecco Eh Però almeno siamo tornati Quasi full di legna raga Almeno quella è fondamentale eh Almeno quella Per me è super fondamentale Ora Attenzione Cassa per noi Vediamo di non farci cecchinare Quindi Mettiamola una piccola build Scudone non male Me lo tiro per 5 di shield Così che almeno non rimane gli altri Sono stato molto infame Sì Me ne frega qualcosa No Andiamocene Andiamocene in safe signori Tra l'altro questi qua Devono venire Praticamente verso di me eh Quindi non dico che Mi arriveranno da davanti Ma Sicuramente In qualche modo Devono arrivarci in safe E se non qua davanti Non ho idea di dove possano Arrivare Quindi non lo so raga Cerchiamo di rimanere in zona Cerchiamo di rimanere in zona Che secondo me era un buone kill questa eh Secondo me queste erano veramente buone kill Eccolo eccolo raga L'ho vistissimo Faccio finta di andare avanti Faccio finta di non averlo visto Fermi raga Guardate che faccio Fermi tutti No raga No raga ma visto Si finta Eh si finta Si finta Si finta Fermi Ok No raga ho missato Ho missato entrambi i colpi Fermi Ok Oh mio dio raga L'abbiamo mangiato Fermi ok Il bromo Muore molto prima di noi Di safe Full vita What the f Raga Perché il bromo era full vita Oh mio dio ma cos'è successo Ah adesso posizione protetta Invece ok Ora posizione protetta Ora va bene Prima meno 4% Ora posizione protetta Raga è impossibile vincere Niente raga posso dirvi una cosa Non ha neanche senso riprovare 36% campione E siamo sempre fissi qua Oggi volevo provare a vincere Ce l'abbiamo quasi fatto Nella prima partita Ci hanno laserato in 4 Perché abbiamo beccato Un fight da 4 Va bene comunque Ci rivedremo domani Ragazzi sempre A ore 13 e 30 Per questa mega Scalata non real Io vi ricordo Like e inscrizione Ovviamente codice ferro Nelle cosso oggetti Sempre per sempre Ricordatevelo Perché molti di voi Mi dicono si lo uso Lo uso Ma non lo usano Quindi mi raccomando Vi vedo Inseritelo per supportare Ma al massimo Ci vediamo in un prossimo video Bella rega Vi voglio bene Mua